Buonasera, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV, cominciamo subito con la cronaca, in particolare un grave lutto che ha colpito la nota famiglia del tongo, Angelo di 46 anni è morto ieri stroncato da un malore improvviso, portato all'ospedale in gravissime condizioni deceduto poco dopo, profonda la commozione e cordoglio da parte del mondo industriale aretino e non solo, Angelo del Tongo era figlio di Stefano del Tongo e aveva fatto parte della grande azienda di cucina della famiglia fondata dal padre insieme al fratello Pasquale, sponsor del ciclismo a livello internazionale, aveva condiviso i grandi successi con la squadra che annoverava tra questi campioni come Cipollini, Chioccioli e Saronni. Angelo si era sentito male ieri mattina mentre si trovava a casa, nonostante l'intervento del 118 all'ospedale San Donato, il 46 anni è raggiunto già in condizioni disperate e qui poco dopo è deceduto. L'emergenza cardiologica è sempre più attenzionata e monitorata a causa della frequenza importante dell'infarto del miocardio, specie in questo periodo in Toscana la salute del cuore, visti i dati nazionali, si conferma un polo d'eccellenza dal punto di vista diagnostico, clinico e terapeutico. I dati di Agenas indicano sicuramente questo, la mortalità media sia a 30 giorni che a un anno è considerevolmente più bassa della media nazionale. Se si parla di salute del cuore, la Toscana si conferma un'eccellenza, è infatti tra le migliori regioni italiane per risposte alle emergenze cardiologiche. Un dato che emerge dalla terza indagine nazionale sullo stato di attuazione delle reti tempo dipendenti. La presenza di una rete integrata per il trattamento delle emergenze cardiologiche, in particolar modo dell'infarto miocardico acuto, nonostante tutte le innovazioni tecnologiche che rappresenta oggi ancora l'unico strumento in grado di ridurre la mortalità di questi pazienti. Le patologie cardiovascolari sono la principale causa di morte in Italia. In Toscana, grazie alla forte collaborazione tra territorio 118 ed ospedale, si muore meno che nel resto del paese. Il tasso regionale infatti è pari al 5,69 contro il 7,42 di quello nazionale. Nonostante l'azienda sud-est sia caratterizzata da un'enorme dispersione geografica e distanza fra diversi presidi, abbiamo dei dati che indicano come siamo in grado, entro 90 minuti, di porre in essere il trattamento ottimale per queste situazioni, cioè l'angioplastica primaria. E oltre il 70% dei pazienti lo riescono a fare entro i 90 minuti. Concentrandosi poi sui tempi di trattamento e percorsi dedicati all'infarto, i maggiori ritardi di presa in carico sono dovuti alle modalità con le quali i pazienti si autopresentano al pronto soccorso e il ritardo con cui ai primi sintomi viene chiamato il 118, soprattutto la notte. Bisogna ricorrere a campagne educazionali periodiche, che vanno rinnovate periodicamente ed è fondamentale che il paziente chiami il 118 perché la cura dell'infarto inizia già in ambulanza durante il trasferimento. Un altro lutto in ambito impeneditoriale aretino è morto all'età di 75 anni Mario Illuminati, presidente orionario del gigante agroalimentare Illuminati Frutta di Pieve al Toppo, Mario figlio del fondatore dell'Illuminati Frutta, il combinatore Duilio Illuminati. Negli anni 90 ha preso le redini dell'azienda che oggi conta ben 170 addetti agricoli e diventano 300 nel periodo di raccolta. La Camera Ardente è stata allestita nella cappella dell'ospedale San Donato di Arezzo ed esecui si terranno domani venerdì 29 marzo alle 16 al Convento dei Capuccini di Arezzo in Via dei Redi. Ancora polemiche sull'antenna 5G di Via Sicilia, la questione ha animato la prima parte del Consiglio Comunale in aula, sono state presentate le prime tre interrogazioni alla presenza dei cittadini posti nello spazio riservato al pubblico, sono state lette e spiegate da Donato Caporali del PD e da Michele Menchetti del Movimento 5 Stelle, oltre a Francesco Romizzi di Arezzo 2020 che hanno chiesto il perché non sia stata coinvolta la popolazione in via preventiva e del perché non sia stata respinta la pratica e del perché non sia stato approvato un nuovo piano sulle antenne scaduto da quattro anni. Ha risposto l'assessore Francesca Luccherini che riferisce di aver mandato una lettera a Inuit per fermare i lavori che sarebbero dovuti ripartire domani, poi ha preso la parola al vice sindaco Lucia Tanti dicendo di aver chiesto prima verbalmente e poi con un PEC che i lavori venissero sospesi per il principio di precauzione così da avere il tempo di riprendere il dialogo tra comune e comitato dei cittadini, tuttavia stando a ciò che trappela domani i lavori riprenderanno lo stesso. A causa del decreto Cutro molti lavoratori stranieri diventeranno clandestini irregolari nonostante che lavorino da molti anni in Italia. A rischio 3.000 lavoratori nel retino con enormi problemi per le aziende che si troveranno improvvisamente senza mano d'opera. A lanciare l'allarme il presidente di ACB Social Inclusion di Arezzo che da anni presta assistenza a cittadini stranieri in particolar modo del Bangladesh e che vivono nel nostro territorio. In servizio. A lanciare il grido d'allarme è l'associazione ACB Social Inclusion che da anni presta assistenza ed ascolto ai cittadini stranieri che vivono in provincia di Arezzo. A causa del decreto Cutro che modifica il testo unico sull'immigrazione tantissimi stranieri che lavorano regolarmente anche sul territorio a retino potrebbero infatti diventare irregolari. Per quanto riguarda l'istituto della protezione speciale c'è stata un'abolizione di quello che è il collegamento tra questo permesso di soggiorno e il percorso di integrazione territoriale. Quindi sostanzialmente adesso la protezione speciale è soltanto collegata a quello che è un rischio di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti nel paese di origine. Quindi si perde quella che è la tutela della vita privata e familiare e quindi del progetto di integrazione. I permessi di soggiorno poi sulla base della riforma per protezione speciale non sono più convertibili in lavoro e quello poi è anche il nodo principale perché una persona che si trova ad oggi con un permesso per protezione speciale lo potrà rinnovare soltanto se c'è un rischio di persecuzione di trattamenti inumani o degradanti e non lo potrà più convertire in lavoro. In teoria sono con il rigetto di quella che è la procedura di rinnovo del premesso di soggiorno sono immediatamente espellibili quindi allontanabili dal territorio nazionale. Evidentemente questo comunque creerà clandestinità. Molto preoccupati della gente che vengono dice come è possibile che io ho aspettato per questo premesso di soggiorno tre anni, quattro anni e ora questo non posso più rinnovare. Io ho un lavoro, contratto indeterminato. Nella retina il rischio secondo l'associazione è quello di perdere nel giro di un anno quasi 3.000 lavoratori. Perché sono aziende grossi che ci lavorano tanti operai, sono imprenditori stranieri che fanno lavorare loro operai e ci sono aziende dove lavorano 50-60 operai che lavorano. Sono persone che tutti sono qualche modo con questo premesso di soggiorno. La norma è entrata in vigore l'anno scorso ancora praticamente per le richieste formalizzate prima di quelle entrate in vigore ancora si applica la normativa precedente però già adesso comunque le questure non consentono più la conversione dei permessi di soggiorno. Quindi ecco gli effetti si iniziano già a vedere ad oggi. Piaggia e vento si sono abbattuti in questi giorni sulla Toscana e in particolar modo anche sulla provincia di Arezzo. Non sono mancati i danni provocati dal maltempo. Stamattina a causa di un forte vento di Libeccio sono cadute alcune piante, alcuni rami sono stati spezzati e caduti sulle strade, alcuni alberi sono stati resi pericolanti e sono state portatevi alcune tegole dai tetti delle case, numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco. Nel parco che lambisce l'alfiteatro e il museo archeologico di Arezzo inoltre un cipresso sotto le raffiche di vento ha iniziato a cedere. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco per tagliare la pianta prima che finisse sulla strada. Le raffiche di vento hanno raggiunto 45 km orari in alcune zone della periferia della nostra città. Le raffiche sono poi un po' scemate, però il pericolo di maltempo e di forte raffiche di vento continueranno ancora. Il servizio della sala operativa della regione toscana che ha aggiornato il codice giallo ha emesso ieri un bollettino con pioggia, vento e mareggiate in tutta la regione. Per quello che riguarda invece un altro argomento passiamo a Parade, una mostra per raccontare il corpo umano in movimento e la danza fatta da studenti dai 10 ai 12 anni dell'Istituto Comprensivo Scolastico Severi di Arezzo, ospitata dal Centro d'Arte Rosi Boa. Chiara Sadotti. Raccontare la danza con segni, immagini e parole. Parade è infatti una parata gioiosa, sognante e piena di colore che dall'Istituto Comprensivo Severi è arrivata a Rosi Boa. È un progetto che si sviluppa intorno alla rassegna di danza curata da Sosta Palmizi dentro il Teatro Mecenate che è all'interno della nostra scuola e che va a sviluppare molti modi di raccontare il corpo, il movimento e la danza. È così nata la mostra ospitata al Centro d'Arte Rosi Boa sino al prossimo primo aprile. Che è il risultato dei laboratori che abbiamo tenuto a scuola insieme a un gruppo di bambine e ragazzi tra i 10 e i 12 anni che hanno esplorato molti modi di raccontare la danza sia nell'arte che nella letteratura per l'infanzia e per ragazzi. Il percorso ha coinvolto 17 partecipanti tra i 10 e i 12 anni indagando in molti modi di narrare la danza. Il gruppo di lavoro si riuniva di pomeriggio quindi in orario extrascolastico che è un gruppo molto attivo, molto curioso e il fatto che abbiano età diverse dà un valore aggiunto a questo progetto perché si creano dei rapporti di reciprocità molto interessanti quindi i più piccoli entrano per la prima volta nella scuola media e vengono guidati all'interno degli spazi nella biblioteca, nel teatro e cominciano a relazionarsi con i ragazzi che potrebbero essere i futuri compagni e gli ambienti che potrebbero essere quelli dell'anno prossimo. Ci avviciniamo velocemente alla Pasqua, tantissime le iniziative religiose tradizionalmente calendarizzate nella settimana santa, dalle cosiddette 40 ore di adorazione eucaristica nei primi giorni della settimana alla cena con la lavanda dei piedi del giovedì santo, ovvero oggi, fino alla via Crucis con le rappresentazioni viventi e nonne della passione di Gesù, fino alla messa notturna di Pasqua e le celebrazioni della resurrezione di domenica prossima. Nella retina la tradizione delle processioni e le rappresentazioni della passione di Cristo continuano ovunque in tutta la provincia come a Cortona, Frassinetto, San Zeno, Monte San Savino e Castiglion Fibocchi che riprende le rappresentazioni dopo quattro anni. Unica eccezione quella di Santa Firmina che dopo ben 24 stagioni si ferma per insufficienza di comparse e volontà. Sentiamo. È partita la marcia di avvicinamento alla Pasqua con le celebrazioni in ogni angolo della provincia. Nel giorno del venerdì santo la passione del Signore si celebra in tutte le parrocchie con la via Crucis, la liturgia poi alle 18 in Duomo ad Arezzo mentre alle 21 a Santa Maria Assunta di Cortona la processione con i simulacri della passione. Il sabato santo alle 9 in cattedrale saranno celebrati ufficio delle letture e lodi mentre la veglia pasquale inizierà alle 23. E arriverà poi così nella notte di Pasqua dove avremo anche il battesimo di alcuni adulti. Le suggestioni di Pasqua tornano anche a San Zeno. L'appuntamento con la 39esima edizione della passione di Cristo è per venerdì 29 marzo alle 21 quando il paese alle porte di Arezzo proporrà un viaggio indietro nel tempo coinvolti oltre 60 volontari impegnati come figuranti, tecnici e collaboratori. La via Crucis torna poi anche a Frassineto, un appuntamento che va avanti ormai da oltre 20 anni. Anche la comunità di Castiglion-Fibocchi è pronta a vivere un emozionante momento con la sacra rappresentazione. Nevicoli del Borgo riprende questa tradizione interrotta nel 2019, 100 i protagonisti di cui 80 bambini e ragazzi. I figuranti si sono anche esperati ad alcune celebri opere d'arte del Rinascimento realizzate da grandi artisti tra i quali la rappresentazione dell'ultima cena. A Santa Firmina invece dopo 24 anni si è fermata la manifestazione per mancanza di volontari. E in tempo di Pasqua c'è anche l'occasione di rispolverare antiche tradizioni della cucina locale aretina e toscana. Un dolce tipico di questo periodo è la panina gialla. Scopriamone l'autentica e antica ricetta nel prossimo servizio di Greta Settinelli. La panina o panina pasquale è un dolce a base di pasta di pane arricchito con uvetta, zafferano, spezie e tanto amore. Ci va un po' di noce moscata, un po' di cannella e un po' di pepe. È tipica dell'aretino e della toscana. A svelarci tutti i segreti è la signora Rita che ci accoglie in casa sua mentre la prepara con il figlio Lorenzo in vista della Santa Pasqua. Questa ricetta quante generazioni ha attraversato? Che io sappia quattro generazioni tutte. Sì sì, dalla mia bisnonna, nonna, mia mamma, a me adesso e la trasmetto anche alla mia nipotina. Gli ingredienti fondamentali sono le uvette che devono essere grosse, tipo lo gibibbo o similare e poi lo zafferano che dà un sapore, un aroma particolare a tutto l'impasto. Tradizionalmente è cotta nel forno a legna, si consuma il giorno di Pasqua da sola o in accompagnamento a cibi salati come il salame e le uova sode. Perché una volta c'era il digiuno eucaristico, andavi alla messa, non dovevi essere digiuna, il giorno di Pasqua dovevi, tutti i giorni, digiuna e quindi facevi la comunione, tornavi a casa che semmai erano le dieci e facevano colazione con questa panina insieme all'uomo benedetto. Qual è il ricordo più bello di quando era bambino? Noi ragazzi andavamo a togliere le uvette che rimanevano un pochino bruciacchiate per mangiarle e ci davano le manate perché non volevano che si sciupasse l'effetto. insomma, quello era subito da andare a mangiare l'uvetta. Una volta c'era il forno a legna che era in comunità con altri e quindi si davano il turno, ognuno portava le sue panine o il pane e le panine a turno, cioè era il forno che accendeva per tutti, quindi era un momento anche di aggregazione. Due i segreti che ci svela la signora Rita, impastare rigorosamente a mano e assaggiare prima di infornare. E quando la porta in tavola che momento è per la sua famiglia? Eh, le dico una cosa, la vogliono anche prima di metterla in tavola, già si mangia il sabato sera, la mattina e poi a pranzo viene data proprio come benedizione, però difficilmente resistono a non prenderla prima fino al pranzo. Sì, sì, la mangia il pranzo. E andiamo allo sport parlando del rezzo ma non del calcio giocato perché torna la protesta della Curva Sud, Lauro Minghelli, che con un volantino ha comunicato che coerentemente con quanto già deciso in passato non prenderà parte alla sfida Arezzo-Juventus-Next-Gen. Tessualmente leggiamo questo volantino, siamo consapevoli che la nostra assenza in questo particolare momento possa essere di difficile comprensione, ma il nostro modo di essere ci impone di prendere anche queste sofferte decisioni. Non smetteremo mai di ripetere che le squadre B, oltre a essere uno strumento utile solamente a fare quadrare i bilanci, tolgono interesse a una serie che ad oggi sopravvive esclusivamente grazie alle sfide di Campanile. Invitiamo quindi la tifoseria Maranto a sostenere la nostra protesta e disertare i gradoni del Comunale. Anche in questa occasione non giudicheremo chi vorrà assistere all'incontro, ma allo stesso tempo non accettiamo morali da parte di nessuno. Così i gruppi organizzati della Curva Minghelli, che quindi non entreranno allo stadio sabato alle ore 14 in occasione della partita contro la Baby Juventus. L'Arezzo ha già affrontato in altre due circostanze la Juventus Under 23 nel 2018 e nel 2020 al Comunale, sempre con la curva rimasta semivuota. Anche questa volta sulla gradinata compariranno gli striscioni di protesta. A questa si è unita anche Orgoglio Maranto, che sottolinea che le squadre B non hanno nessun seguito di pubblico, non attraggono nessun tifoso, nemmeno della squadra principale, perché non evocano nessun sogno e non ci può essere identità con un progetto che mira esclusivamente interessi diversi da quelli sportivi, a favore di pochi e a discapito di molti. L'obiettivo, nemmeno tanto nascosto, è creare un sistema sempre più chiuso, in cui le piccole realtà trovano sempre meno spazio e risorse a favore delle grandi squadre guidate molto spesso da logiche di speculazione finanziaria piuttosto che di merito sportivo. E dopo questa pagina dedicata ai tifosi a Maranto, andiamo invece a uno sport giocato, quello del basket che purtroppo non ci ha dato il risultato sperato nella trasferta di Tortona. L'AMBC Servizi infatti soccombe 86-81 dopo una combattuta partita contro la Gulliver-Dertona. Vediamo. Amara sconfitta in volata per l'AMBC Servizi, che a Tortona non riesce a capitalizzare una partita condotta per oltre 35 minuti e sfuggita di mano nel finale per merito dell'energia messa in campo dai padroni di casa della Gulliver. Parte determinata la sbacca e fin dalle prime battute prende in mano le redini del gioco. Con il passare dei minuti, i padroni di casa cominciano ad entrare in ritmo, ma il quintetto di coach evangelisti alla prima sirena è avanti 24-15. Nel secondo parziale, gli Amaranto sono attenti a non far prendere fiducia ai tiratori avversari. Purtroppo però alcune disattenzioni non permettono ai ragazzi di coach evangelisti di operare un break consistente. Al rientro dagli spogliatoi, Arezzo tiene sempre la testa avanti, ma anche in questo caso non riesce a capitalizzare quanto costruito. Dertona chiude sotto 55-65. L'ultimo quarto inizia con i locali molto aggressivi e decisi. Arezzo perde fluidità in attacco perdendo alcuni palloni che rimettono in carreggiata la Gulliver. L'inerzia della gara passa così nelle mani di Dertona. Una tripla di Conte porta la squadra di casa sul più 4. Arezzo deve affrettare i tempi e riesce a pareggiare con Toia, ma la squadra di casa sfrutta la presenza vicino ai canestri di Tambè decisivo nel segnare punti e ridare seconde occasioni di realizzazione ai compagni. A 50 secondi dalla fine la tripla del possibile pareggio di Rossi sul ferro, gli Amaranto alla fine si devono arrendere con il punteggio di 86 ad 81. Adesso, dopo due trasferte consecutive, un fine settimana di pausa per la MBC Servizi, prima di tornare in campo domenica 7 aprile alle 18 al Palasport Estra contro College Borgo Manero. E questa era l'ultima notizia per questa sera. Grazie per averci seguito. A voi tutti una buona serata con i programmi di Arezzo TV. Grazie per averci seguito.